Io sono impegnato non solo con Ryanair ma con più vettori in un piano di rilancio del sistema aeroportuale della Calabria. Governo la regione e quindi mi occupo di affrontare i problemi, non di questioni politiche o rispetto del mio governo, con il quale ho un ottimo rapporto. Dico però che se ci sono operatori che stanno sul mercato, anche con una posizione dominante come Ryanair, bisogna prenderne coscienza ed è sempre difficile per le amministrazioni pubbliche limitare le regole del mercato, a volte non è nemmeno giusto.